Buongiorno, sono l'ingegnere Roberto Ferrari in rappresentanza dell'impresa Edili della Confartigianato, Confartigianato LAP. In questo convegno che si appresterà ora sul BIM, cioè le modellazioni progettuali, l'interesse come imprese è soprattutto vedere come si rapporterà un po' con la stima dei costi degli edifici e soprattutto l'integrazione che ci sarà con questi nuovi modelli di progettazione condivisa da tutti i professionisti e dall'impresa, come ci si rapporterà anche con i diversi software che sono a disposizione sia dei professionisti che delle imprese, sempre col fine finale della stima dei costi degli edifici. Quindi diciamo che il convegno che adesso avremo sarà impostato su conoscere un po' come si rapporteranno con le imprese e questi sistemi di modellazione avanzata.